good morning si qui sono diciamo le 11 come dico in questi casi non certo non è mattina prestissimo è una mattinata inoltrata ma comunque mattina mister master maestro oh semplicemente oh 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 semplicemente David Lynch it's May 5 2022 it's Tuesday here in Naples totally dark totally grey cloudy morning it's still right now 69 and 8 around 20 celsius this means that it's that day it's really 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 soft like in this day it's anticipated but with this atmosphere sembra un po' di meno generalmente è più freddo slightly cold as riguarda il video tos credo che lo farò ma I'll do it but I'll do always separate from this zoo in the case you are interested I I think that this afternoon a temperature potrebbe scendere o manti o on the same level or less degrees a few less degrees a few less degrees but we'll see we are not magicians on this point as always but the really important thing with this atmosphere negative point si detto we are going to be enjoying those beautiful blue skies and golden sunshine salvo miracoli ma comunque non ci possiamo lamentare perché perché li abbiamo avuti per 3-4 giorni consecutivi non fa niente adesso è così oggi speriamo però a questo punto che essendo così nuvoloso si rimette in sesto direttamente domani il tempo atmosfera per cui said this so from this other mythical window with the white curtain punk pink flowers punk altra copertura rosa and it's green roller shooter not visible al torso come se fosse sempre lì from the mythical window with the red orange blue in water curtain and it's green roller shooter behind me on the top not visible infatti in this shot infinelli from a mythical keyboard di amati gx 640 ipg 625 eva a great day in old people follow the channel and the reports un saluto davvero a tutti indolso i hope you will have a great breakfast il mio stomaco brunto non so se lo sentite sicuramente io oggi mi consolerò visto che il tempo è brutto così come spero vi possiate consolare voi con la vostra bella colazione sì appunto l'atmosfera va essere brutta anche nelle vostre zone sì I'll see you in the video tools if I'll do it or tomorrow grazie a tutti grazie a tutti Grazie.